Questa terra ha tutto. Sarebbe davvero un posto meraviglioso per metter su famiglia. Non vedo l'ora che questo succeda. Le provviste scarseggiano. Forse ci sarà uno scontro vicino al passo della Glorietta. Le nostre truppe sono nel Nuovo Messico. Ci metteranno almeno due settimane per arrivare qua su. Atleti a destra! Due settimane. Quanti anni hai? Sedici. Hai mai sparato? Sì. E a che sparavi? Caniglie. Dobbiamo resistere. I nostri ci raggiungeranno. Senti, Pettirossi. Un tempo si diceva se Canter e Pettirosso andrà tutto bene. La prima volta che ho avuto la possibilità di sparare. Non mi sono neanche reso conto che il colpo partiva. È successo, basta. Non mi sono neanche reso. Grazie.